ed eccoci qua ragazzi bentornati sul mio canale qui è sempre uchikai gamer che vi parla e siamo tornati su kingdom hearts birth by sleep final mix vi ricordo ragazzi come sempre che io sto giocando su ps4 e questa ovviamente è la remastered della versione 1.5 2.5 appunto per playstation 4 come certamente ricorderete ho sbloccato l'ultimo episodio quello in cui abbiamo affrontato terra xehanort contro acqua cioè con acqua la quale ha sigillato ven nella terra di partenza e abbiamo visto che è diventato tipo tutto bianco tutto sbrilluccicoso e dopo aver affrontato terra è finita nel chiamiamolo così nel mondo oscuro mentre terra è stato ritrovato svenuto a radiant garden da come che si chiama quello lì quello che sparava lì e altri due che non sappiamo chi sono però quando il tipo il più anziano gli ha chiesto il nome lui ha risposto di essere xehanort ora guardate un attimo e l'ultimo episodio si conclude così ma ora giocando così in off screen ho sbloccato come potete vedere secret episode segreto come ottenere questo episodio allora dovrete innanzitutto concludere tutte le tre storie singole singole ok completare i vari album quindi avere tutte le 20 figurine e appiccicarle nei vari album e fare un totale di punteggio in di 140 punti a testa per poi giocare l'episodio finale ok e come ultimo requisito per ottenere il secret episode dovreste dovrete sbloccare nel diario trio anche il hai sbloccato il filmato momenti oscuri ok perfetto abbiamo sbloccato un nuovo fermato poiché hai vinto più di 9999 nations vinci il trofeo nella lotta che è questo qui guardate eccolo qua trofeo della lotta testimonial che hai vinto più di 9999 nations ok quindi ora vanno alle ciance e carichiamo e vediamo che cosa ci aspetta nell'episodio segreto poi vi vi linko comunque qui sotto come si fa eh verità nascoste ma terra è ancora il mio cuore tu pensi che puoi solo arrivare e prendere i vincere? io non potrei sentire e lasciare questo succedere non ne capisci nessuno ne capisci nessuno di me evitare in l'episodio in l'episodio, il tuo cuore sarà il mio cuore sempre vero vero tu sarai l'episodio l'episodio se ne capisci nessuno non potrei avvare il mio cuore come allora potrei riusciare il mio cuore l'episodio non ti capisci nessuno che ci si c'è ai non I'm not afraid of what the darkness holds now Even if you do wrest control of my heart from me Even if you cast me into the deepest, darkest abyss You'll never sway me from the one cause that pushes me to keep on fighting Whatever the cost, I'm ready to pay it Brave words, to be sure But I'm a patient man We can take as much time as we need to settle this little property dispute However, know this You are just one of many roads that I might choose to take Trust me, I made certain of that Sagome impresse nella memoria Hey, Mr. Master Oh, come on, you don't even know your pal? How? Please tell me the amnesia was just a sick joke Boy, this is some cliché Hey, you're not... Terra Just gotta check As if Well, don't sweat it I got your back Ecco qui il vecchietto di cui vi dicevo Prende un gelato col nipotino I two che non si sarebbero mai dovuti incontrare Who are you? Why, hello It's not often I get visitors Please, call me Aqua Why are you sitting here all alone in the realm of darkness? How did you end up here? Well I can tell you this is my second time on these shores But unfortunately, much like the first I do not remember who I am or whence I came Everything was washed away in whatever currents carried me here That's too bad I know I've been here a long time Wandering through the endless hours Unable to escape You wish to return to your own world? It's my friends I promised I'd be there for them Your friends Somewhere in the scraps of memory I have left You remind me of a boy I once knew He is very much like you True to his friends and kind This boy travels to many worlds and fights to keep the light safe Keep the light safe? I've been away too long Did something happen out there? Are the worlds in danger? Sad to say They nearly felt a darkness more than once But at every turn That boy arrived with Keyblade in hand To save the day Huh? Wait a sec Is his name Terra or Ven? Neither of those I'm afraid Should have known How long has it been since I met him? At least a year now Perhaps more Back then my heart was clouded with vengeance I did terrible things Both to him and his friends I brought unhappiness to more lives than one I felt something must be done Was that why? A means of clearing my conscience Or perhaps out of a sort of scholarly instinct While the boy slept his long sleep I hid the results of my research inside him Transplanting the data to where it might best serve a purpose In fact I would like to believe Maybe he can set things right A boy like him who touches so many hearts He could open the right door And save all those people whose lives I managed to ruin So many are still waiting for their new beginning Their birth by sleep Even me And even you What's this boy's name? His name is Non lo sapremo mai Tutti i pezzi si rimettono insieme E che è questa mo? Sora Sora? Come fa questa a conoscere Sora? Come fa questa a conoscere Oh. Sora. E acqua è commossa. E vi ricordo che è uno dei due ragazzini che abbiamo incontrato lungo la storia. Laddove lo attendono? Sora. Riku. Una bottiglia e una pergamena Minchia, com'è diventata carina Un po' di più Non trova via? Non trova via? Uno Zero Zero Qui è dove si è concluso l'ultimo episodio ragazzi Oh Oh, what? What is going on? 0.5 Mappa Una mappa del reame dell'oscurità Oh Finalmente giochiamo un poco Vediamo un po' Allora, qua non possiamo andare Ok Diamo una bella salvata Dopo tutti sti filmati, tra l'altro Ragazzi, come potete vedere, livello 47 Cioè, vuol dire, cioè, che Mi son dato da fare per Ammazzare tutti i nations Che ho incontrato E qui Cosa ci sarà mai? Un muro? E sti quali che cazzo sono? Non sono i nations questi Cazzo sono sti mostri mo' Aia Contro aereo Blitz ardente Oh, hanno sempre più vite o sbaglio? Lancia fuoco Ok Ok Qua non penso ci siano delle casse da prendere Comunque è sempre meglio dare una controllata Allora, lì c'è un altro gorgo Ok, allora Andiamo qua Ok, allora di là non si può andare Che sono questi Cioè, sembrerebbero dei Digimon questi ragazzi Cioè, non so Dai, curiamoci Ah, ma è da andare di qua allora Eh, perché mi sa di sì che Mi sa che si andava di qua, eh Eh, ammazziamo di questi Tripla firaga Boom E ora Blizzaga tripla Ah, ok Abbiamo liberato il passaggio Perfetto Uh Ah, io che dicevo che non ci sarebbero state casse Gravità zero Oh, è lungo sto percorso, eh Ah, eroga L'Ittardente Energia Blackout Non ho d'immaginare i box che ci siano qui dentro Ah, eroga Ok 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 Oh, lì Però non posso andare da nessuna parte Eh, non posso andare da nessuna parte io da qua Non è che devo saltarci sopra Sì, dovevo saltarci sopra Bastava dirmelo No? Magnetega Magnetega E ora E ora Ipercinesi Boom Oh, lì Hoppla Ok, quello è un ponte C'è qualcosa qui attorno No? Poi, nei commenti qui sotto Mi dovrete dire Che cavolo sono sti qua E questi sicuro Non sono Quelli che Come si chiamano I nero Questi non sono sicuramente Nessence Di sicuro Prima di andare avanti Lì c'è una cassa E ce l'apriamo Ok Aia Ok Ok Stiamo ancora in alto Dovevo andare di là Un'indaga Un'indaga Fira le tripla Le zaga tripla Diamant polvere Ok Ok Oh Quanti sono? Sconfiggi tutti i nemici Fira le Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non finiscono mai. Oh, madonna mia, non finivano più. Oh, madonna mia, non finiscono mai. Qualcuno ci sta osservando. Cos'è? Merda da dietro. Ecco. Eh, l'avevo... ho detto anch'io che non erano. No, cazzo. Come lo batto questo? Sconfiggi il nemico. Grazie. Ma come? Come lo batto. Come lo batto. Come lo batto. Non è come... Ah, finalmente ti sei mostrato. Batto. Battuto. Molto più semplice degli altri, eh? Eh? Perché? Cosa hai visto? Fragment Passage No, è Fragmentary Passage Scusate Dopolino? Xehanort Birth by Sleep Volume 2 Trofeo guadagnato, il capitolo perduto Molto bene ragazzi Anche l'episodio segreto è stato completato E come potete vedere abbiamo sconfitto 9942 nemici Molto bene ragazzi E anche il capitolo di Birth by Sleep lo abbiamo completato tutto Io in attesa di poter mettere mani sul secondo volume di Birth by Sleep vale a dire il 2.8 di Kingdom Hearts Io vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto E alla prossima, penso che inizieremo nell'attesa il primo Kingdom Hearts Ciao belli!